Eccoci qua! Nuova puntata di It and fit to you. Oggi parliamo, come ogni tanto faccio, di lingua italiana. Non voglio darvi lezioni di lingua italiana perché sono meno indicato per farlo, ancora meno di lingue straniere. Ma parlo a livello interpretativo. Provate ad ascoltare le persone che parlano e provate ad ascoltare quante volte vi dicono la frase non riesco. Non riesco. È una sequenza talmente frequente di non riesco che sembriamo una nazione di impotenti. Non riusciamo a fare un tubo. Quindi quando voi sentite parlare una persona, per quello che riguarda il mio ambito specifico, quindi quello che è ciò che è legato all'alimentazione, all'allenamento, sentite un sacco di non riesco. Non riesco ad andare in palestra. Cioè io parto per andare in palestra, poi una volta sono stato arrestato, un'altra volta mi hanno tamponato, un'altra volta sono stato rapito dall'anonima sequestri, dall'andrangheta, hanno chiesto un riscatto, un'altra volta mi hanno forato le gomme. Io non riesco ad arrivarci in palestra fisicamente. No, io non voglio andare in palestra. Cioè non voglio fare una cosa è forza, potenza. Non riesco è sudditanza, è remissività, è non riesco, io vorrei tanto fare questa cosa ma non riesco. E non è vero. Perché tutte le volte che qualcuno vuole fare qualcosa, alla fine la fa. Se quindi una persona non arriva in palestra, non vuol dire che non riesca ad andare in palestra e che non vuole andare a fare palestra. Non è illegale. Una persona può anche non fare palestra, non è mica un problema. L'importante è che non piagnucoli e dica con coerenza, io piuttosto che andare in palestra, sto su una pancetta, e chiedere a guardare la gente che passa con una Coca-Cola in mano, con una birra in mano, con la sigaretta in mano. Ovviamente in quel caso bisogna informare la persona che non potrà avere il culo che otterrà, o gli addominali che otterrà, soltanto facendo palestra. Il problema non si pone. Io non riesco continuamente. È ormai un leitmotiv che mi accompagna da 37 anni che faccio questo angosciante lavoro. Non riesco a seguire il programma alimentare. Come non riesco? Non voglio seguire il programma alimentare. Cioè, non è che io vengo aggredito e ci sono dei cioccolatini a cui spuntano le zampine e mi finiscono in bocca contro la mia volontà. Ho scelto di mangiare cose diverse da quelle indicate nel mio programma alimentare, dimagrante, stimolante, rassodante, per l'aumento di massa muscolare. Quindi ho scelto di mangiare cose diverse perché erano più buone. Erano assolutamente più buone. Quindi, cioè, perché devo usare continuamente, devo tirare fuori sto piagnisteo del non riesco, non ce la faccio, io vorrei tanto. No, tu vorresti mangiare. E infatti hai mangiato. Dov'è il problema? Cioè, non si pone il problema in quesito di stabilire il non riesco, non voglio. Cioè, anche nel matrimonio ti dicono, riesci a sposare questa, a starci sempre, non lo so. Sì, lo voglio. Poi, se non lo vuoi più, dopo un po' di anni, ti separerai. Però, sì, lo voglio. No, non riesco, riesco, non riesco. E su questo, la modalità di espressione dell'uomo italiano e della donna italiana sono veramente tragici. Tanto ormai, tanto ormai. No, è poco, non è tanto ormai. Tanto ormai, cioè, mi faccio cagare. Sono grasso. Come diciamo noi ormai, sono grasso inquartato. Cioè, mi si divide in quarti, volendo. Come in macelleria. Faccio i tranci in macelleria come i manzi. Sono gattissimo e non sopporto la mia forma fisica. E questa sera mangerò due pinze, tanto ormai sono grasso. Cioè, che ragione mi toglie? Cioè, io mangio due pizze perché sono buone. No, perché sono grasso. Mangio due pizze ingrassando perché sono grasso. Parliamo. Facciamo come la faccettina che fa così degli emoti con mumble, mumble, mumble. E poi si vede che pensano. Cioè, io devo andare in ospedale a farmi fare un belisco. Ho un belisco che non è a posto. Devo fare un intervento. Mi do delle martellate sull'altro belisco, quello sano, perché tanto ormai devo andare in ospedale e allora vado lì e mi faccio fare due minuti. No! Io non è che mangio due pizze perché tanto ormai sono già grasso. Io mangio due pizze perché mi piacciono le due pizze. E perché devo usare l'alibi di essere già grasso? E le due pizze aiuteranno a raggiungere il risultato della magrezza? No! Però lì per lì, ricordatevi, non riesco tanto ormai lì per lì. Lì per lì. Ma cosa vuol dire lì per lì? Cioè, io mangio una roba, lì per lì. Cioè, cosa vuol dire lì per lì? Lì per lì però cos'è? Non so cosa accade dopo. Io mangio una cosa, mi dà gratificazione, lì per lì, ma dopo mi viene a collegisti, mi vengono i calcoli, o ingrasso, o mi viene a detenzione di due, divento diabetico, mi si alza la pressione, si trova metabolica. Ora, non vuol dire che non devo mai mangiare quella cosa, ma non devo mangiarla pensando che in fin dei conti il piacere che provo lì per lì valga la pena. Altrimenti siamo rovinati. Quindi analizzate come l'italiano si esprime in lingua italiana. Fatelo, perché guardate che divertente. Non riesco, tanto ormai, lì per lì. Ah, ma di tutti mangiavano, dopo come fai? Tanto ormai è il cugino povero di come fai. Come fai a non mangiare che gli altri ti mangiano tutti davanti? Cosa vuol dire? Che se una persona entra in un sexy shop deve per forza usare tutti i vibratori che ci sono perché sono tutti lì in esposizione? No! Cioè, io in realtà desidero ciò che stanno mangiando gli altri. Perché se mi trovo ad una saga, ad una fiera di fegatelli e mi fa cagare il fegato, vedo gli altri mangiare i fegatelli e mi fa anche un po' impressione. Un po' schifo. Ma se vado alla sagra di, che ne so, baccalà, e a me non piace il baccalà, io guardo il lammietto circostante con lo stesso sguardo che ho quando vado a fare la colonoscopia, con circospezione. Quindi, perché devo dire, eh ma come fai? Dopo tutti mangiano, come fai? No, è che mangiano una roba che ti piace. Mangiano una roba che ti daresti il braccio destro per poterla mangiare. Non è colpa degli altri che la mangiano. Perché non è che se tutti gli altri cagano, tu ti dici, ah bisogna che cagano io. No! Cioè, nel momento in cui fai una cosa, diventa consapevole che la stai facendo per te. E' per te che la stai facendo. Non la stai facendo per altri. La stai facendo per te. Perché vuoi quella cosa, desideri quella cosa, ti fa impazzire quella cosa, desideri poter sentire il sapore di quella cosa. Poi, non devi minimizzare utilizzando termini paradossali come, eh ma come fai? Come fai? Adesso, arriva la Pasqua, come fai? Non fare. Mangi, non c'è problema. Ma non sentirti in colpa. Non serve sentirsi in colpa. Cioè, bisogna semplicemente utilizzare la lingua italiana in maniera produttiva. Perché? Perché se noi lasciamo fare il nostro modo di parlare, diventa un dramma. Voi pensate a quante volte sento, Borghetti, faccio una gran fatica ad andare in palestra. Se voi parlate con un americano, lui pensa che avendo andato in palestra tutte le sere e fate una gran fatica. Che tutte le sere fate una fatica in palestra, sollevare dei pesi, a fare della secletta, del tapirulano, sollevare dei pesoni, lì sempre e tricche, 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 bumme, 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 bumme. Faccio una fatica. No, l'italiano, se dici che fa fatica ad andare in palestra, lo dico che non ci va. Faccio fatica ad andare in palestra. Ma che fatica fai? Non ci vai? No, ma è perché faccio fatica. Cioè, noi esprimiamo sempre questa cosa con sudditanza, con sofferenza. Faccio fatica ad andare in palestra. No, faresti fatica se ci andassi in palestra. E che non ci va, quindi non fatichi per un cacchio. Quindi, cioè, e siamo sempre lì a dire Ah, ma non riesco. Ma come devo fare? Ah, ma non ce la faccio mica io. Io non ce la faccio mica. Non ho mica tempo, eh. Non ho mica tempo. E se non hai tempo, non lo fare. Ma non desiderare un corpo che richiede tempo. Cioè, il problema è che noi siamo diventati un po' rincoglioniti. E quindi, desideriamo le cose perché vorremmo fare come quando si scrona sul telefonino. Desideriamo, tu, ordiniamo. Tu, ordiniamo. Amazon Prime. Ordiniamo. Mi consegna un addome nuovo? No. Quello te lo vai a prendere. Quello te lo vai a prendere perché se vuoi un addome nuovo, l'addome nuovo arriva. Osta, se arriva, arriva e ti fai un muscio di culo così. Cioè, quindi, devi farti un mazzo fotonico e lui arriva. Non ti viene consegnato al corriere. Un giorno ti svegli, ti guardi e dici Oh, c'è boi. Ho gli addominali. Pensavo di dover aspettare l'autopsia. Invece ho gli addominali. Cioè, cambiare il nostro corpo è veramente semplice. Ma dobbiamo partire con aggressività, non con sudditanza. Voi potete girare 250.000 studi in giro per l'Italia o per il mondo. Non troverete mai uno studio che alle spalle del professionista ha il rosso pompeiano. Questo non è perché io nella mia vita volevo farlo cicolo poi mi sono fatto dovevo pagare sempre io e quindi ho capito che non era così farlo cicolo ma era un'altra cosa. Ma il rosso pompeiano è un colore che crea aggressività, crea rabbia. Io ho un cliente che devo fare in modo che faccia fuoriuscire la sua rabbia non verso il suo corpo ma verso tutti questi modi di pensare queste rotture che dobbiamo creare di uno schema che ci vede deboli e fragili davanti al cibo che non riusciamo. Non so come fare tanto ormai. Ah ma di come fai? Tanto ti mangiano davanti. Cioè perché se non cominciamo a razionalizzare il cibo e a tirare fuori i nostri bignè, i nostri crostacei abbassati, i famosi calamaroni e se non tiriamo fuori le palle come se ne rovinate? Siamo rovinati perché le persone sono sempre più a disagio voi vi sarete accorgi lo dico ogni volta che faccio una di queste puntate ma aumentano disperatamente i professionisti aumentano gli espertoni aumentano quelli che sanno tutto che voi guardate su internet ed è pieno di gente che dice te lo dico io come devi fare la calade che scotta me e io magari sono fra questi ma perché allora aumenta così tanto l'obesità ogni anno? Perché aumenta del 6% ogni anno l'obesità? Perché la gente vive il cibo in maniera remissiva e ti dicono Borghetti sono arrivato a casa c'è il panettone che mi guardava il creceto cioè se ti guardava ci vai agli occhi o dire che è un animale perché il panettone non ce l'ha agli occhi ah ma lì come fai? Dopo sei lì dopo mia moglie l'ha aperto ho capito ma cioè se vuoi mantenere fede ad un programma saluti tua moglie e assisti mentre lei mangia il panettone perché lei può mangiarlo o la colomba o l'uovo di Pasqua o quello che è perché quella dieta sei tu quello che devi magari perdere peso sei tu non è che devi trasformare il mondo in un gruppo di deportati perché non devono tentarti cioè dovremmo riuscire a creare una lingua italiana che si basi sulla forza non sempre sulla remissività io sopporto poco il termine resilienza è un termine che adesso se ne parla tanto di resilienza ma mi sta un po' con sciun coglione la resilienza la resilienza è resistere tenere botta ad una condizione di disagio no ma che tenere botta io credisco in una situazione di disagio non è che sto lì a resistere a tenere duro intanto che mi svergano con una frusta no 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 io o muoio o gliela toccida attorno al corpo o la frusta cioè aggredite i vostri problemi affrontate i vostri problemi perché altrimenti come dico sempre e non è che io cito ma è perché io sono intelligente assolutamente cito ma è perché mi sembra sensato quello che dico se non affrontate voi i vostri problemi i vostri conflitti saranno l'ora ad affrontare voi e un problema ti affronta sempre mentre caghi quando non sei preparato c'hai i calzoni calati e ti arriva addosso che non capisci niente cioè ogni tanto sedetevi con voi stessi e dite ma voglio andare avanti così voglio devo continuare a dire a tutti cioè io incontro la gente che vi dice Borghetti adesso bisogna che venga adesso bisogna che venga è una minaccia cioè no adesso bisogna che venga a farla dietro che devo dimagrire che no ma no che me lo devi dire con me lo fai se vuoi farlo te cioè non è un problema incontrarti la gente che dice io bisognerebbe che sbetti così e incontrarti che sono così con la sigaretta bisognerebbe che smettessi di fumare perché adesso è morto anche il tale che è morto il tale che bisognerebbe che smettessi di fumare e non smetti sono 12 anni che lo incontri 12 anni che ti dice che dovrebbe ma perché mi dici com'è che dovrebbe smettere di fumare non ha nessun senso ah bisognerebbe che iniziassi a andare in palestra adesso vengo vengo a fare una prova io ho una palestra assieme a mia moglie vengo a fare una prova adesso vengo che quando ci sei quando ci sei quanto ci sei sempre quando ci sono vivo lì dentro doveva che vada quando ci sei quando ci sei 10 anni per te la palestra no non ci hai mai visto questo ma così tanti altri adesso ma non so quando ci continuiamo parliamo di figa parliamo di calcio anche se ci capisco poco magari imparo parliamo di moto parliamo di moto gp parliamo perché vi devi dire che adesso bisogna ma perché cioè è una partita di tempo e quindi cercate di analizzare il vostro modo di fare il vostro modo di parlare quando ascoltate un tanto ormai faccio fatica non riesco e allora poi e come fai e quando ascoltate queste frasi dite a voi stessi cosa sto dicendo io non sto mangiando la pizza perché la vado mangiando dagli altri ma perché io ucciderei qualcuno in questo momento per una pizza quindi cosa vuol dire che la vita apporta tanti doveri pochissimi piaceri e si ritorna sempre al punto di partenza signori godetevi la vita perché la vita ha un difetto c'è questo difettuccio che pare che la vita finisca e se l'ho passato a dire minchiate a diludermi che non è colpa mia se non sto facendo palestra ma è che non riesco non arrivo in tempo come mai o che non è colpa mia se ho questo corpo ma è perché comunque sono così di costituzione che la costituzione dice infatti che l'Italia è una repubblica democratica fondata sui ciccioli della piadina e quindi in realtà mi sono semplicemente illuso di aver risolto un problema che in realtà io stesso ho creato grazie e buona giornata ciao a tutti e alla prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti